Qual è la pressione in millimetri di mercurio esercitata da una massa di 132 grammi di CO2 alla temperatura di meno 3 gradi centigradi e sono contenuti in una bombola del volume di 30 litri? Allora, dobbiamo sempre ricorrere alla nostra formula PV uguale NRT solo che qui un po' il grado fra virgolette si complica nel senso è sempre lo stesso esercizio solo che dobbiamo un pochino trasformare le unità di misura infatti la temperatura è espressa in gradi centigradi e quindi dobbiamo trasformarla in gradi Kelvin quindi temperatura di gradi centigradi più 273 uguale a meno 3 più 273 uguale a 270 Kelvin poi il volume è espresso in litri adesso ho la massa espressa in grammi io devo capire però questa massa a quante moli corrisponde quindi come faccio? il numero di moli è uguale alla massa espressa in grammi diviso la massa molecolare del composto e quindi è uguale 132 grammi diviso la CO2 già conosco so che pesa 44 grammi mole e quindi 132 diviso 44 3 3 moli adesso procedo a calcolare la mia pressione allora pressione è uguale N per R per T fratto V e quindi è uguale 3 moli per 0,082 litri per atmosfere fratto mole per Kelvin per la temperatura è 270 Kelvin fratto il volume che è 30 litri uguale 3 per 0,082 per 270 diviso 30 2,214 atmosfere ora il risultato è in atmosfere ma il problema lo vuole in millimetri di mercurio quindi io so che un'atmosfera sta a 760 mm di mercurio come le mie atmosfere di questo risultato 2,214 stanno a X che è la pressione millimetri di mercurio quindi X è uguale a 760 per 2,214 diviso 1 ok quindi 760 per 2,214 uguale 1682,64 millimetri di mercurio quest'è Grazie.